Ciao, benvenuto nel nostro canale! In questo video scopriremo Zakynthos, l'isola greca tra spiagge bianche e tartarughe marine. Zakynthos, nota anche come Zante, è un'isola incantevole, con splendide spiagge, mare cristallino, cibo delizioso, un'atmosfera accogliente e una vibrante vita notturna. Visitare Zante sarà un'esperienza indimenticabile che ti ricorderai per sempre. Al sesto posto troviamo Spiaggia del Relito. La spiaggia del Relito è ovviamente al primo posto tra le cose da vedere e fare a Zante. Il posto più incredibile e iconico di Zante merita necessariamente una visita. La bellezza di queste acque con numerose sfumature di blu e azzurro è praticamente inenarrabile. Questo posto si può visitare da vicino via mare, in escursione o noleggiando una barca, approdando direttamente sulla spiaggia. o via terra, raggiungendo in auto scooter quad il promontorio da dove ogni giorno vengono scattate numerose foto. Al quinto posto troviamo Tartarughe Caretta Caretta. Le famose Tartarughe Caretta Caretta di Zante sono, insieme alla spiaggia del Relito, il traino del turismo e delle escursioni a Zante e vanno inserite obbligatoriamente nella lista delle cose da vedere e fare. Ad esclusione delle taxi boat, tutti i tour prevedono una tappa ad osservarle. Consigliamo sempre di utilizzare barche piccole di massimo 30 posti per non disturbarle con il rumore del motore dell'imbarcazione e per vivere un'esperienza meno turistica e sovraffollata. Al quarto posto troviamo Città di Zante. La Città di Zante, capoluogo e area portuale dell'isola, è il centro della vita isolana. Il modo migliore per visitarla di giorno è perdersi tra l'intricato dedalo di vicoli, osservando scorci di vita della gente del posto. Di sera la città si anima, turisti e gente del posto si riversano nei locali e passeggiano dopo cena tra i numerosi negozi e mercatini. Se siete in cerca di un ristorantino tipico, ti consigliamo il Giros Metaxas, situato nel centro città, Taverna Acropolis, situata vicino alla fortezza di Zante e offre una vista panoramica sulla città e Amos Kitchen & Bar, un ristorante situato vicino alla spiaggia di Zante, dove puoi gustare i piatti tipici della cucina greca, con una vista mozzafiato sul mare. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video sui migliori posti da visitare nel mondo. Al terzo posto troviamo Isola di Cameo. L'Isola di Cameo è il secondo posto più fotografato di Zante, la sua particolarità è un pontile di legno che la collega alla terraferma. Questa piccola isola ha una spiaggia al suo interno. Essendo situata all'interno del parco marino, spesso le tartarughe si avvicinano e con un po' di fortuna è possibile nuotarci insieme. Se la visiti, portati maschera e boccaglio, esplorando le sue acque potresti avere una piacevole sorpresa. Alternativamente puoi prendere parte agli aperitivi, che vengono organizzati due volte a settimana, sorseggiando un drink dalla terrazza del bar, noterai al tramonto le teste delle tartarughe, salire a respirare. Qui troverai il Club Barrage, il locale più famoso a Zante, per la vita notturna e l'unico con due sale all'aperto, da non perdere le serate principali del martedì e venerdì, frequentate da migliaia di turisti di tutte le età. L'ingresso è di 15 euro, incluso un drink. Al secondo posto troviamo migliori punti panoramici. Non c'è vacanza che possa avvolgere al termine senza aver osservato il sole tramontare nelle limpide acque greche. I migliori tre punti panoramici per osservare questo fenomeno sono il punto panoramico sopra la spiaggia del Relitto, Campi e Placachi. Il sito più frequentato e turistico è il Faro di Cheri, per via della vicinanza alle zone più turistiche di Zante, mentre quello meno turistico ed esclusivo è il tramonto in barca alle isole Mizitres. Al primo posto troviamo Tour in barca. Per terminare la lista delle cose da vedere e fare a Zante, consigliamo un'esperienza che può essere fatta in pochissimi posti, ovvero noleggiare una barca senza patente nautica. Il prezzo è alla portata di tutti e il divertimento è assicurato. Puoi scegliere se noleggiare una barca per esplorare la zona del parco marino di Zante con le sue calette e acque limpide a partire da 75 euro per tre ore o se noleggiare una barca per visitare calette e grotte della costa occidentale a partire da 200 euro. Per chi è alla scoperta di posti meno conosciuti al pubblico, la soluzione migliore è il noleggio di una barca con skipper. Quale di questi posti ti piacerebbe visitare per privo? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione!